Usumano, Moscato dello Zucco, ma che bottiglia meravigliosa, elegante e tradizionale, sex a più. Diego, mi parla di questo Moscato, com'è? Questo è un Moscato che l'ha fatto 200 anni fa in Sicilia da un conte francese, Henri Dumal, che è venuto nelle nostre zone nel 1850 e ha piantato questo Moscato d'Alessandria 200 anni fa. Poi è arrivato alla prima guerra, è avuto un grande successo. Dopo la prima guerra mondiale lui è morto e di questo prodotto non c'è stata più traccia. Noi abbiamo fatto una grande ricerca con l'università, abbiamo piantato le viti, abbiamo atteso sette anni e abbiamo fatto nascere il primo Moscato dello Zucco, dopo il conte a Regno Humano. E con la bocca chiusa sette anni? Sì. È difficile? Molto. Io non consiglio. Bellissimo, andiamo a assaggiare. Andiamo a assaggiare. Grazie a tutti.